Ciao Pasquale, mi senti? Ciao Lucia! Ti sento forte e chiaro! Fatti vedere con la web! Come sei bello! Ti ringrazio, anche tu sei bella! Che ne sai? Ho visto le tue foto su MySpace! Ma ci sei sul Facebook? Linkami il sito! Si, aspetta! Ma come fai ad essere connessa dal divano? Ho la nette wireless! Ti devi aggiornare Pasquale! Grazie!